Aspetta, vai, aspetta Ti muochi, parte 2 Cioè, si gira, devi dire Allora, hai i capelli lunghi? Lumi femminili Ma cosa c'entra? E cioè, è lunghi sotto le spalle? Sì o no? Sì, è piccola Sì, Ilaria, vai giù Sì che c'è sto il pane Sì, sì, vai, vai Sì, è piccola E mi ha sopra il pane Allora, c'è il pane La Ferrari non c'è i capelli La Ferrari o no? No, no, anch'io Non c'è il pane Non c'è il pane Non c'è il pane Non c'è il pane No, tra le porte che l'olava Glacioni Sì, grazie Ragazzi, come e ti usare l'alanger Altorisi Mi per toccare altro Sì, guarda Si può essere tutto Mardin No, ma tessño ma cosa vuol dire predominante e' calma e' calma e' calma sono in serie con la manetta bianca oh Luca chi mi sente una stampa sulla madre non era la faccia di nesca cosa? non era la faccia di nesca porta dei braccialetti o chi dice che no non era la faccia di nesca vada 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 quando finisco di fare la ripresa youtube quando finisco di fare la ripresa face avvava asciazione che è 5 non vuoi dire PITS PITS no c'è la videocamera guarda PITS no puoi dire non lo vuoi dire non lo vuoi dire non lo vuoi dire non lo vuoi dire ehi PITS PITS BASTA 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 glock dai dai da Andossa la manietta nera. Questa è blu e questo è nero. Questa è blu e questo è nero. Vabbè ragazzi è anche quello è nero. E' un po' più a dico. E' nero. Io la gioco su vogliazza. Sulla maglietta una scarpa disegnata. Anche lui ce l'ha le scarpe? Sulla maglietta. Ci sono due figli con le scarpe? 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 Si suole. Ci sono due figli con le scarpe? No, no uno. facciamo votazione anche la macchina anche la macchina